Dottore Agen, nei giorni scorsi il Tar si è pronunciato dando ragione alla Regione sul ricorso che diverse associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, ha presentato in merito alla Camera di Commercio di Catania. Andrà avanti questa storia oppure si è fermata qui, secondo lei? Io ho grande rispetto delle sentenze per cui non le commento mai in negativo, semplicemente credo che la sentenza del Tar sia quello che in un procedimento è il primo grado, vedremo i gradi successivi e non sempre il CGA ha dato ragione al Tar, io credo che il Tar abbia giudicato più sulla forma che sulla sostanza, questo ripeto senza critica, vedremo cosa dice il CGA, è comunque chiaro che visto e considerato che siamo assolutamente convinti di aver subito un'ingiustizia inaccettabile andremo avanti, e questo mi pare scontato. Come Confcommercio avete già incontrato il nuovo Presidente Crocetta oppure ancora state attendendo di incontrarlo come categoria? Abbiamo scritto all'onorevole Crocetta manifestandogli un apprezzamento per le sue prime dichiarazioni, augurandoci che a queste dichiarazioni condivisibili seguano atti conseguenziali, in quel caso abbiamo garantito che Confcommercio diventerà una sua spalla in senso positivo. Chiaramente se invece alle parole non seguissero i fatti la nostra posizione cambierebbe, comunque siamo in serena attesa di giudicare, ma non in tempi brevi, io non credo che i giudizi si diano in sei giorni, ma tra sei, sette mesi diremo quello che pensiamo al governo Crocetta. Per ora apprezziamo gli intenti. A proposito di giudizi, cosa pensa della revoca della nomina che Raffaele Lombardo ha fatto alla provincia regionale di Catania nominando appunto un commissario? Crocetta l'ha revocato e ne ha nominato un altro? Io non entro negli aspetti giuridici, non mi compete, dico solo che esamineremo come si comporta il nuovo commissario e da un certo punto di vista preferisco avere un commissario che risponde a chi lo ha nominato piuttosto che un commissario che risponde a chi non c'è più. Da questo punto di vista mi pare più corretto questo nuovo metodo, poi giuridicamente parlando mi rimetto agli esperti.